Soffro di improvvise perdite di coscienza, sono queste le parole dette sanitari dal 24enne che lo scorso 3 giugno travolse ed uccise Giulia Mauri. Il giovane che era la guida di un furgone aveva spiegato ai medici, subito dopo l'incidente, di soffrire di questi repentini svenimenti. Insomma, il guidatore potrebbe aver avuto un malore nel momento esatto in cui il mezzo è finito contro la povera Giulia. La procura ha disposto che il ragazzo nei prossimi giorni venga sottoposto ad un esame medico, un accertamento sanitario in contraddittorio con la formula dell'incidente probatorio. Solo così si potrà verificare se e da quale patologia si affetto il guidatore. Non solo, ma sono anche terminati i riscontri sul cellulare del 24enne. Il ragazzo, al momento della tragedia, non stava telefonando e nemmeno inviando messaggi. Eppure il furgone, quel drammatico giorno, è uscito di strada invadendo completamente la pista ciclabile e travolgendo Giulia che era in sella alla sua bicicletta. Un impatto violentissimo. La ciclista, 38 anni, era stata letteralmente spinta nel fiume Botteniga. Nonostante i soccorsi immediati, il cuore della giovane portata in ospedale aveva cessato di battere poco dopo. Giulia quel giorno doveva andare a mangiare dai genitori. In sella alla sua bici si era diretta verso l'abitazione della mamma e del papà, ma si era dimenticata in ufficio le chiavi di casa ed era tornata per recuperarle. Giunta sul ponte del fiume la tragedia. Sul posto tante persone che avevano tentato disperatamente ad aiutare la 38enne, troppo gravi le lesioni riportate. L'investitore, portato in ospedale in stato di shock, era stato sottoposto agli esami tossicologici, i risultati negativi. Se il guidatore fosse davvero affetto da questa sindrome, ci sarebbero ulteriori interrogativi. Come il giovane possa aver ottenuto le certificazioni mediche per il rilascio dei documenti di guida.